Salvo Cocco Anche Cireale è stata degnamente rappresentata nella nota trasmissione Mille Voci. Alfio Cantarella infatti ha preso parte di recente alla storica trasmissione, che viene riproposta in tutta Italia attraverso numerosi reti locali, compresa anche Canale 9. Unico rappresentante della provincia etnea, Alfio Cantarella si è esibito con il brano inedito Era Settembre, composto da Olivo Berto di Venezia, da Gianni Drudi di Rimidi e Noel Milsud Matrenza di Malta, accompagnato dalla voce della cantante Chiara Cairone. Davanti al microfono in cui and dietro si sono esibiti artisti del calibro di Little Tony, i Nomadi, Gianni Nazaro, Edoardo Vianello e Vilma Goic, l'accese Alfio Cantarella non ha affatto sfigurato ed anzi ha ottenuto un buon successo, testimoniato anche dagli altri ascolti della trasmissione. Non ci sarà un'altra te, un'altra emozione Una grande soddisfazione quanto riguarda me stesso come cantante, perché arrivare all'apice dove ci sono tutti i grandi professionisti, alla trasmissione mille voci come Vilma Goic, Gianni Nazaro, Guido Renzi e altri, per me è una grossa soddisfazione. Questo successo è arrivato a 50 anni, dopo tanti anni, per me già sono soddisfatto. Niente, proseguirò sempre avanti, sto facendo altri brani con altri autori, mi sto proponendo anche come compositore, cioè come autore e mi appoggio a altri compositori. Andiamo avanti. Adesso Alfio Cantarella sta curando il Festival Canoro Fognando e Cantando. La finale è in programma a Piazza Duomo il prossimo 30 luglio. Ospite dell'appuntamento sarà Isabella Abiuso, partecipante della fortunata trasmissione televisiva di Canale 5 Io Canto. Sarà un'altra te, un'altra emozione.